La giustizia oggi è un malato gravissimo e credo che i 9 milioni di cittadini italiani che hanno un processo in corso, io credo che quello sia la presa priorità, noi oggi abbiamo 9 milioni di processi pendenti, quindi circa 18 milioni di cittadini che sono chiamati in causa su un processo e parlare di immunità dei parlamentari credo che sia un'eresia. Credo che Orlando però sia stato bravissimo, abbia dimostrato un grande fiuto politico, ha buttato sul tavolo del dibattito politico ad agosto un tema sensibile, un tema caldo che interessa, ripeto, esclusivamente la politica unicamente per spostare l'attenzione, è evidente che la vicenda Azzolini è stata una vicenda politica, è stata una vicenda che ha spaccato e ha dilagnato il Partito Democratico, tant'è che i due vice segretari, Guerini, hanno detto due cose completamente differenti, non credo che l'attribuzione della competenza della Corte Costituzionale possa essere una risposta, perché? Perché la Corte Costituzionale ha dimostrato, con tutto rispetto, per l'amor di Dio, ha dimostrato negli ultimi anni di non essere quell'organo terzo e imparziale che dovrebbe essere invece per Costituzione, spesso e volentieri la Corte è entrata a gamba tesa su scelte della politica. Io discuterei di altro invece, ad esempio, e non se ne parla mai, delle logiche correntizie che dominano all'interno della magistratura. Non lo dice nessuno. È un tema evergreen, mi permetta di dire. Nell'ultimo decreto sul fallimento sono stati prorogati 100 magistrati che dovevano andare in pensione, che sono stati prorogati di un anno, semplicemente perché il CSM, nella logica del contrasto tra le correnti, non è riuscito a fare le 100 nomine. Ecco, io credo che il rapporto politica magistratura, che è un conflitto che si porta dietro da anni, dovrebbe essere risolto o quantomeno affrontato salvaguardando l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ma anche della politica.